più che un'immagine mi viene in mente una parola che è cooperazione soprattutto in momenti di crisi come è stato l'ultimo anno cooperare sicuramente la scelta migliore che si possa fare sarò banale e sentimentale ma probabilmente è stata la prima volta in cui ho viaggiato senza le frontiere tra un paese e l'altro dell'unione ed ero piccolina mi sembrava una cosa incredibile